Sottoscritto, Francesco Lenghini il regista, Casciari delle Viene, la sorella di Giuseppe Uva, Lucia Uva imputati di diffamazione in un fascicolo che invece dovrebbe ricostruire quello che è successo in Caserva quindi questa è l'anomalia, oltre allo scopo intimidatorio, che non commento nemmeno quello che il messaggio che vorrei che passasse è che in quel fascicolo di indagine che avrebbe dovuto, ma questo per mandato del pubblico ministero cioè il pubblico ministero avrebbe in mandato l'obbligo per ruolo pubblico di indagare sulle responsabilità e in quel fascicolo ci ritroviamo noi, questa è la follia, altrettanto folle nella denuncia che ci è stata notificata a casa, è la richiesta di sequestro del film che non sta in piedi perché ormai il film viaggia da solo a prescindere da me, dal regista, da Lucia Uva, eccetera, eccetera quindi insomma non mi dilungherei troppo e vi lascerei alla visione del film grazie grazie grazie